Bello ragazzi, benvenuti a questa nuova recensione a caddo dell'episodio 232 di Boruto Titolo della puntata Denki, prima missione da caposquadra Allora, sì, anche questa puntata è una puntata così Tratta di una missione fatta da Denki e la sua squadra Basta Il fatto ragazzi che io potrei anche parlarvi un pochetto più nei dettagli della puntata ma non c'è molto da dire Cerco di farvela più breve senza farvi perdere tempo Allora, Denki viene convocato da Lokage, quindi da Naruto Gli viene detto, guarda, devi andare a fare questa missione Non è una missione del cazzo Denki e gli altri credevano fosse una missione del cazzo Tipo recuperare animali, quelle missioni di merda E invece no, è una missione di rank B Quindi anche abbastanza alto Devono portare delle marionette Che servono per scavare dentro una miniera Quindi devono portare queste marionette in un'isola nel paese dell'acqua Al centro proprio dell'acqua C'è quest'isola dove produce molto oro Ma così hanno detto E visto che produceva talmente tanto oro Avevano bisogno di tante persone Quelle marionette fanno molto meno fatica E comunque lavora le marionette Questo è E devono portare queste marionette là Il fatto è che Denki come vi ho detto Appena sa della missione Scopre che è la missione B Super esaltato e tutto Va dagli altri Da Iwabe e Metal Che erano al bar Al ristorante Insieme a Naruto A Boruto Scusate alla sua squadra Boruto dice Beh A noi le missioni di livello bio più alte ce le danno Perché noi siamo specializzati in quelle Sì Boruto Non te vantà Te sei uno stronzo Semplicemente perché sei il figlio di Naruto Eh E sei il protagonista Solo per quello Non pensare ad altro Eh Boruto Comunque Boruto è là che se la tirava così Poi arriva Denki Gli racconta che questa è una missione di livello B Super esaltati Decidono chiaramente di andare Vanno prima da Katasu Che mi pare che si chiami Il professore no Il nostro amato professore Non dico niente ma avete capito Il nostro amato professore Che stavolta stranamente era da solo Questa cosa un po' mi ha fatto pensare Ma comunque era da solo Vanno dal professore Gli fanno vedere queste marionette E praticamente il professore deve raccontare un sacco di cose no Metal e i Wabe non ce ne hanno sbatti E Denki dice Regà Dai Andate Ci penso io Ascolto io Oh Denki per adesso Mi sta piacendo un sacco All'inizio non mi piace un cazzo Adesso piano piano Mi sta sempre piacendo di più Il professore racconta a Denki Come funzionano le marionette Gli dice anche che una volta Che sarà arrivato là la miniera Dovrà lui Muovere le marionette Quindi usare le marionette Praticamente Le marionette si usano con un joystick Della Playstation Brandizzato Konoa Anzi no Brandizzato villaggio della foglia C'è il simbolo Vabbè bellissimo Lo voglio anch'io E tu puoi muovere tre marionette Con un joystick solo Non so come cazzo fa Denki È un campione del mondo Bravissimo Denki un po' ci rimane Però poi accetta Chiaramente Perché? Perché il professore non è bravo Cioè il professore è bravo A costruire le cose Ma non è bravo a usare il joystick O fare queste cose qui E quindi l'ha chiesto a Denki Perché l'ha chiesto a Denki? Perché l'ha visto Durante l'esame dei Chunin Ha visto come si è mosso Come ha usato La tecnologia ninja Ha detto Oh C'è sa fare sto tipo Diamo la missione a lui Il giorno dopo Inizia la missione Ci fanno vedere Tutti super gasati Però Denki Lo vediamo stanco Oltre che stanco E assonnato Lo vediamo molto preoccupato Beh Preoccupato ci sta È la sua prima missione Da caposquadra Ci sta Però lo vediamo anche molto stanco Lo vediamo Prendono il treno E partono Passa una notte Vedi tutti gli altri Dormire Denki Davanti al computer A giocare Ma non stava giocando Stava studiando Era anche abbastanza palese La cosa Ti ha fatto capire Che Denki Visto che è la sua prima missione Si vuole impegnare Vuole portarla a termine Si sta impegnando anche Oltre Cioè in realtà Va bene tutto quello che fa Però Non dorme Non si riposa Studia Le marionette Come si muovono Tutto quello che deve fare Mentre gli altri Dormono Anche durante la notte Arrivano in quest'isola Con un battello E all'arrivo C'è un signore Che quando vede Denki E gli altri Dice ma Ci siete solo voi Cioè siete solo voi Siete sicuri Di essere in grado Di farlo Perché sicuramente Denki Insomma Vederlo Non ti darà Una gran aspettativa Su quello che può fare È vero Questo è vero E devono scalare Questa sorta di vulcano Per arrivare Io lo chiamo vulcano Ma però vabbè C'è un vulcano Al centro dell'isola Devono scalare Questa cosa Per arrivare su Anche se Su perché La miniera Di solito non è su Però vabbè Lasciamo perdere Devono scalare Questa cosa Per andare su Ed è molto ripida Una volta C'era un passaggio Per arrivarci più velocemente Però hanno detto Dopo che abbiamo avuto Dei problemi Dobbiamo fare Questa strada qui Mentre stanno andando su Si vede Denki parecchio affaticato Io vi ripeto Che Denki Non ha dormito Quindi è anche Più stanco Gli altri Abbastanza tranquilli Vanno a Non vi ho detto ragazzi Ma comunque Le marionette ce l'hanno Ognuno Dentro uno zaino Sulla schiena Ok Quindi stanno portando Anche le marionette È molto ripido Denki è stanco Stanno portando le marionette Gliela possiamo far passare A un certo punto Decidono di fermarsi Per fare una pausa Perché Denki era veramente stanco Fanno una pausa Mettono le marionette Tutte lì per terra L'uomo Quello che era lì Dell'isola Che ha accolto I tre ninja Decide Dice Guarda Non ti preoccupare Te la porto io La marionetta Se sei stanco Prova a tirar su La marionetta Ma non si muove Di un millimetro Ti fa capire Che è veramente pesante Gli altri Ok Metal Lo conosciamo Il figlio di Rock Lee Vuoi che non sia allenato Iwabe È anche più grande Immagino si alleni molto Quindi Iwabe Ok Metal Lee Va bene Denki E glielo dicono anche Denki sei diventato Molto più forte Perché una roba del genere Un peso del genere Super una strada Veramente ripida Non ce l'avrebbe mai fatta In passato Ma proprio mai È diventato molto più forte Non si nota Cioè Si può percepire Ma non si nota Arrivano alla miniera E Denki Tira fuori le marionette E comincia a fare questo test Quindi manda queste marionette In una spaccatura nel muro Loro Trovano L'oro E boom In un attimo Tirano fuori un pezzo così D'oro Chiaramente Cioè non è un pezzo d'oro Già lavorato Da lavorare È Un ore Ecco Per chi gioca Minecraft Sa cos'è un ore Ma comunque un ore in generale Anche per chi non gioca Minecraft Vabbè Abbiamo capito E lo danno Le marionette A il capo Quello che li ha accolti Dice Oh wow Che figo Brave Ma c'è un piccolo dettaglio Diciamo che Quando le marionette Fanno questi lavori Inquadrano altre persone Che stavano lavorando Per la punta la miniera Ci sono gli operai normali E altre persone Che hanno assunto Perché il lavoro Non mancava Anzi c'era talmente Tanto lavoro Che hanno assunto I primi stronzi Che hanno detto Scusa posso lavorare Sì vieni Ok E due Di questi stronzi Sono due ladri Che durante questo periodo Che sono stati lì dentro Hanno sì recuperato l'oro Ma l'hanno messo Da un'altra parte L'hanno nascosto Da un'altra parte Quindi decidono Di separarsi Dall'altro gruppo Di minatori Prendere l'oro E scappare Però Visto che ci sono Questi tre ninja Come fai a scappare Ti inchiappettano In un attimo Quindi cosa decidi Di fare? Semplice Prendi l'oro E prendi in ostaggio Il capo della miniera Quello che ha portato I ragazzi lì Gli punti un coltello Al collo E scappa Iwabe Vuole provare A usare la tecnica Di terra Ma Scusa sei dentro Una miniera Non è proprio L'idea migliore E infatti Denki glielo dice Gli diche Aiwa ma sei rincogionito Non fa sta roba Butti giù L'entrata Della miniera Ed è finito tutto Iwabe poi capisce E non si fa niente E li lasciano scappare Ma più che li lasciano scappare Questi ladri Uscendo dalla miniera All'entrata della miniera C'è una porta E chiudendo questa porta Da dentro Non puoi uscire Non puoi aprirla Proprio perché Se c'è un Come in questo caso Un minatore Che vuole rubare l'oro Da dentro Non può farlo Cioè non puoi Prendere l'oro E poi uscire Aprendo la porta Perché la porta non si apre Si apre solo da fuori E loro sono chiusi dentro E Non solo questo Visto che sono chiusi dentro Gli stronzi Fuori Quindi i ladri Chiudono anche L'aria Ok? L'ariazione Quindi l'ossigeno Piano piano Finisce E ci crepano tutti Ed è finita la puntata Sono morti tutti E' morto Denki E' morto Iwabe metal Tutti i minatori E anche il capo della miniera Gli unici rimasti in vita Sono i robottini Che hanno detto Eh vabbè Ciao Sono rimasti lì fermi Per l'eternità No ragazzi Cioè Si ma no Nel senso Si sono rimasti senza aria Si sono rimasti chiusi dentro la miniera Non sono morti Perché Denki Guardando nel suo computerino Che aveva la mappa Di tutta la miniera Vede che Se scavano da una parte Riescono a uscire Quindi Sfruttando sempre i robottini Fanno un buco nel muro E riescono ad uscire Ma la missione non è finita Non è che tu consegni I robottini Ti liberi E puoi tornare a casa No Devi fermare i ladri E come li fermi? Semplici Anzi Come li trovi? Li trovi grazie ai robottini Perché hanno un coso Che gli esce qui dalla testa E riescono a Trovare l'oro Trovano i ladri Vanno verso i ladri E si scopre che non sono Solo ladri Ma sono anche ninja Perché uno di quei ladri Usa Una tecnica d'acqua Un drago d'acqua Io ho detto Boyade Ma che cazzo Che è diventato Come si chiama? Zabusa? Che cazzo Come fa a usare una tecnica Leggendo un coglione così? Vabbè Usa questa tecnica qui Iwabe chiaramente Usa un muro di Di pietra Di roccia E poi Ehi raga Ve lo devo dire ma Fino adesso Come si sono salvati Denki e gli altri? Grazie a cosa? Ai robottini? Secondo voi I ladri Chi li fermeranno? I robottini Perché Chiaramente ragazzi È Denki Che li muove i robottini Non è che si muovono da soli Denki Ricorda Quello che gli ha detto Kawakawa Cazzo Lì come si chiama Ma è il professore Il nostro professore E sfrutta I robottini Quindi Allunga le braccia I robottini Tipo alla rufi Perché stavano scappando Con una sorta di gommoncino I ladri I robottini Bloccano il gommoncino Anzi Due robottini Bloccano il gommoncino E il terzo Usa tipo una rete Gigante Per catturare i ladri Poi vabbè Arriva anche i wabe Fa una cosa anche i wabe Niente di troppo emozionante E riescono a Prendere i ladri E recuperare l'oro La puntata Ben o male è finita Scopriamo che Denki era stanco Perché stava studiando Quello che vi ho detto io Ma chiaramente loro Te lo fanno scoprire Alla fine E Denki Super contento Tutti super contenti Arrivano i ricercatori Della foglia Perché sarebbero arrivati Successivamente Arrivano anche i ricercatori Della foglia Lì A posto Missione compiuta Tutto tranquillo Che dire ragazzi Mi è piaciuta la puntata No Però Non mi dispiace Vedere Denki Nel senso Mi sta piacendo come personaggio Ma solo perché Mi piace come personaggio Solo per quello Come puntata Non serve a niente Non mi dice niente Non mi fa vedere niente Perché tu vedi Qualche tecnica di wabe La testa che usa Denki Metal L'unica cosa che fa Ogni tanto E tirare qualche cazzotto Anche se comunque È stato metal A mettere fuori Il combattimento I ladri Basta Questo è Non ne avevamo bisogno Neanche di questa puntata E niente ragazzi Ditemi il vostro Pesero qua sotto Se Ne se ne valsa la pena Guardarla O meno ragazzi Se il video vi è piaciuto Ragazzi un bel pollice in su Se non vi è piaciuto Ragazzi un pollice in giù E Bella Ragazzi Spaccate il cazzo Di video di like Dai spaccatelo Per una volta Grazie a tutti